Penso che sia stata un'esperienza molto stimolante, sia dal punto di vista della discussione delle cose un po' più burocratiche, quindi appunto edilizie e trasporti, comunque sono delucidazioni che sono fondamentali per creare una comunicazione effettiva tra studenti e istituzione scolastica che è necessaria e fondamentale perché non ci deve essere un antagonismo o comunque un muro perché porterebbe disagio a entrambi e anzi una collaborazione attiva come questa apre tante porte. Il Livornese è interessato molto alla garanzia del proprio diritto allo studio, quindi per esempio con la situazione Covid che siamo costretti a usare in praticamente tutte le scuole di Livorno, i laboratori come Aule è una problematica molto forte, molto importante e che sta molto a cuore, idem per i trasporti e poi per le strutture fatiscenti, varie crepe, infiltrazioni, formiche per le scuole che sono tornate di moda ultimamente. Livornese si interessa, magari non tanto attivamente in politica studentesca, ma quando c'è bisogno di scendere in piazza e far sentire la propria voce è molto probabile che partecipi.